La proroga dell'apertura dei quattro tribunali abruzzesi Lanciano, Sulmona, Vasto e Avezzano è stata stracialta dalla Presidente del Senato Casellati dopo l'approvazione degli emendamenti presentati da tutti i partiti. Per questo questa mattina bandiera a mezz'asta sul municipio di Lanciano in segno di lutto per la democrazia parlamentare offesa da quanto accaduto la scorsa notte. Atto d'imperio che colpisce a morte la democrazia parlamentare sostengono il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che è anche Presidente della provincia di Chieti e Silvana Vassalli Presidente dell'Ordine Forense Frentano. La Casellati ha di sua iniziativa dicono stralciato con un atto di imperio l'emendamento di proroga al 2024 dei tribunali abruzzesi tra cui quello di Lanciano è un fatto di una gravità inaudita che apre una voragine nello stato di diritto, un gesto irriverente, illogico e antidemocratico che colpisce a morte la democrazia parlamentare e con essa la rappresentanza di interi territori espressa attraverso i parlamentari. I senatori che all'unanimità si erano espressi per l'emendamento in tutte le commissioni parlamentari sono stati scavalcati offesi e con essi i cittadini, i sindaci e tutti coloro che hanno a cuore la costituzione del diritto alla giustizia di prossimità. L'emendamento votato all'unanimità compresi i rappresentanti di Forza Italia e il partito della Casellati spiegano nella nota, prevedeva la proroga della funzionalità di quattro tribunali abruzzesi. L'emendamento è stato approvato prima dalle commissioni giustizia e affari costituzionali, poi discusso e approvato in commissione bilancio. Tanti senatori appartenenti e diversi gruppi parlamentari e rappresentanti dei tanti territori nazionali hanno sostenuto e approvato un emendamento presentato, sostenuto, sottoscritto da tutti i senatori abruzzesi. Purtroppo, temiamo, concludono nella nota Pupillo e Vassalli che i nostri tribunali saranno definitivamente chiusi a settembre 2022 per volontà a questo punto ascrivibili in maniera chiara alla Casellati e ai dirigenti ministeriali che hanno fatto muro, una volontà che non è quella dei territori e dei senatori eletti che sono stati mortificati da un atto di cui devono essere ancora spiegati i contorni. Dopo un grande lavoro che hanno fatto i colleghi senatori e deputati tutti insieme, di tutte le formazioni politiche, dopo che si è votato in commissione competente al Senato, questa notte il Presidente del Senato, aderendo ad una lettera del Quirinale che parlava di coerenza tra voti in commissione sugli emendamenti e oggetto del decreto legge, è stata scartata la votazione riguardante i tribunali minori abruzzesi da salvare. Il voto c'è stato, il voto poi è stato scartato, ma quel voto vale per il prossimo veicolo riguardante il settore giustizia. Io ho parlato anche con livelli istituzionali elevati per fare in modo che non si disferdesse il lavoro fatto per quella votazione. Un lavoro che ha visto la firma di tutti, primo firmatario Gianluca Castaldi, ultimo firmatario Luciano D'Alfonso, in mezzo tutto il mondo unito, proprio per dare l'idea di una convergenza su un tema sentito che ha anche valore territoriale. Continuiamo a lavorare.